Buonasera a tutte amiche, buonasera a tutti amici, benvenuti al nostro ultimo appuntamento con Check Up Obiettivo Salute e la puntata finale di questa lunga carrellata che per tutto l'inverno ha tenuto compagnia a voi, ha tenuto compagnia anche a noi grazie all'apporto dei tanti medici della struttura Fisioradi di Vismara di Pesaro. Oggi incontreremo la dottoressa Maria Eugenia Minardi, è una gastroenterologa, una giovane gastroenterologa romagnola perché viene da Cesena, ci parlerà del reflusso gastroesofageo. Siamo nello studio della dottoressa Maria Eugenia Minardi, una dottoressa di Cesena, buongiorno. Buongiorno. Una branca della medicina molto nota, o comunque sicuramente tante persone per un qualche motivo, si rivolgono al gastroenterologo. La dottoressa è specialista in gastroenterologia e anche lei opera qui nella struttura di Vismara di Fisioradi in questo concetto di salute a 360 gradi. Buongiorno, grazie dell'invito. Sì, sono una gastroenterologa e direi che la gastroenterologia è fondamentale nel benessere della persona e oggi appunto un problema fondamentale e molto frequente nella popolazione di cui vorrei parlare è il reflusso gastroesofageo. Esatto, il reflusso gastroesofageo, questo disturbo così fastidioso, così antipatico, che tante volte viene addirittura confuso per altri. Ci parli un pochino quindi di questa patologia peraltro così diffusa? Allora, è una patologia appunto molto frequente, però anche molto impattante sulla qualità di vita di tutti i giorni, soprattutto se i sintomi vengono misconosciuti o comunque non trattati adeguatamente. Così possono protrarsi nel tempo, essere poi recidivanti e non garantire una qualità di vita adeguata ad ognuno di noi. Esatto, abbiamo già introdotto il concetto dei sintomi. A cosa bisogna fare attenzione? Qual è quella campanella d'allarme che ci fa dire attenzione, sento odore di reflusso? In realtà bisogna stare attenti a più sintomi, perché possiamo distinguere la malattia da reflusso tipica che si presenta appunto con sintomi esofagei tipici, come possono essere quelli del bruciore retrosternale, del dolore epigastrico e proprio del regurgito acido. Ma poi bisogna stare attenti anche ad altri sintomi che possono essere esterni, diciamo a quei sintomi tipici esofagei che chiamiamo sintomi atipici e che possono interessare anche il faringeo, dare sinusiti ricorrenti, la tosse e quindi altre sintomatologie che sono esterne appunto alla prima pertinenza dell'esofago. E questi sintomi si manifestano quindi quando c'è un incedere iniziale della malattia, ma perché si scatena questa patologia? Allora, si scatena appunto perché per vari meccanismi, principalmente è dovuto al reflusso di materiale gastrico, non per forza acido, che risale in esofago e questo poi va a scatenare dei sintomi perché è un processo diciamo non fisiologico, non più normale, che rientra nella normalità. All'insieme di fattori di rischio, forse il primo in assoluto riguarda l'alimentazione. Assolutamente, l'alimentazione insieme a uno scorretto stile di vita è quello che può incidere maggiormente nella malattia da reflusso gastroesofageo, soprattutto in quei pazienti che possono avere poi dei fattori di rischio propri anatomici. E quindi tra i fattori anatomici principali possiamo ricordare l'incontinenza cardiale, quindi quel muscolino, chiamiamolo muscolino, in fondo all'esofago che non chiude correttamente, fino alla propria presenza di ernea iatale da scivolamento. A questo sicuramente si vanno ad associare e a sommare tutti quegli stili scorretti di vita che ha un'alimentazione non adeguata. Quindi possiamo ricordare un consumo non adeguato di alcolici, il fumo di sigaretta, ma anche condizioni di sovrappeso, obesità e la sedentarietà vanno a peggiorare il reflusso. La stessa alimentazione di per sé deve essere un'alimentazione corretta perché ci sono alcuni cibi che possono, da una parte, aumentare l'acidità gastrica, dall'altra, possono andare proprio a determinare uno svuotamento più rallentato dello stomaco o a favorire appunto uno stesso reflusso, un meccanismo di reflusso. Il bello che poi succede spesso è che persone che soffrono di questo disturbo sanno benissimo che gli si scatena se mangiano determinati cibi, ma lo fanno lo stesso perché poi dopo gli riesce difficile rinunciare a quel qualcosa in più, a quel gusto della vita e quindi vanno incontro a un matematico proprio effetto. Ma allora, per trattare, si manifestano i sintomi, abbiamo questa patologia, come possiamo provare a trattarla? Allora, innanzitutto prima di provare qualsiasi trattamento è innanzitutto necessario fare una valutazione medica, perché è il medico che valuterà appunto i sintomi e accanto a delle prime indicazioni, che sicuramente sono delle indicazioni dietetico-comportamentali, dello stile di vita e di alimentazione, valuterà la necessità di associare degli altri tipi di farmaci che vanno dai gastroprotettori agli antiacidi ai propri veri farmaci degli inibitori della pompa protonica. Sono tutti farmaci che però vanno assunti sotto il diretto controllo medico, perché vanno dati al dosaggio giusto e soprattutto per le tempistiche giuste, perché se non facciamo questo c'è il rischio che questi sintomi possano poi peggiorare e ripresentarsi ripetutamente durante l'anno. È una malattia comunque non trattata, non curata correttamente. Sì, anche perché in effetti con questo tipo di farmaci c'è un grosso rischio, il rischio di un abuso. È molto facile risolvere il problema, prendo la compressa che mi fa passare il disturbo e siamo tutti contenti. Non è così, perché ovviamente il farmaco poi porta degli effetti collaterali che possono dare ulteriori disturbi, quindi la prevenzione è fondamentale. Certo, perché poi oltre a prendere il farmaco che può dare il beneficio immediato, è necessaria anche una valutazione del medico, perché il medico è in grado di valutare la presenza di segni o sintomi d'allarme e che necessitano e possono necessitare quindi di ulteriori accertamenti, dal semplice esame endoscopico come la gastroscopia a ulteriori accertamenti come esami ematici, fino a esami radiologici o anche studi di motilità come la manometria fino alla pH impedenzometria. Quindi la prospettiva è molto ampia anche di studio della malattia da riflusso. Si dice anche poi che molto spesso questi disturbi di carattere gastrico, esofageo, derivano da situazioni di stress, c'è molta insomma, come si può dire, somatizzazione di questi sintomi. È normale perché in realtà l'apparato digerente è strettamente collegato all'apparato del sistema nervoso. Sì, assolutamente è anche un tema molto attuale, soprattutto in questi ultimi due anni, tutte le condizioni appunto di stress, di ansia possono andare a peggiorare una condizione anche preesistente o comunque andare a scatenare una malattia da riflusso gastroesofageo. C'è proprio un asse, diciamo, intestino, cervello e comunque di tutto l'apparato digerente in cui appunto scarichiamo le nostre tensioni e le nostre ansie, per cui sicuramente c'è un ritorno e una manifestazione di malattia. Bene, grazie alla dottoressa Maria Eugenia Minardi. Siamo arrivati alla fine di questa maratona presso la struttura dei fisioradi che ci ha ospitato. È stata la conclusione degna di un percorso lungo, tantissime puntate, tantissimi medici. Ci ha davvero aggraziato, l'ho detta anche io con la Zeta Cesenate, la dottoressa Minardi, a dimostrazione di come questa struttura ha ospiti medici che vengono non solo dalla nostra provincia, dalla nostra regione, ma anche dalle province e dalle regioni limitrofe. Abbiamo incontrato medici toscani, emiliani, romani, venivano un pochino da tutta Italia. Quindi davvero una struttura che ha permesso la realizzazione di queste puntate e non solo la struttura, ringraziamo anche i tecnici che con noi hanno dato proprio vita alla realizzazione tecnica delle puntate, Andrea Sabatini che è qui con noi oggi, Francesco Mazzetti che ha seguito la maggior parte della realizzazione delle puntate e naturalmente la struttura insita guidata da Maurizio, Maurizio proprio di Fisioradi, Maurizio Nadi, il caput mundi di questa struttura, e Laura Mancini che a breve saluterà insieme a noi. È stato davvero un percorso esaltante, speriamo che vi sia servito e che sia stato utile a tutti voi. Laura, sono state 20 puntate, oltre 20 puntate bellissime, tanti medici intervistati, grazie a loro siamo riusciti a fare davvero un piccolo corso per tante persone di consigli utili, ma è stato così difficile organizzarlo? No, grazie alla collaborazione di tutti i medici e di voi di Russini TV è stato veramente un piacere ospitarvi, realizzare queste puntate, sono state veramente formative per tutti, credo che anche poi nella pubblicazione nei vari social e presso Russini TV siano state veramente un vero e proprio corso di medicina, delle piccole pillole di medicina. Medicina applicata, grazie a Fisioradi che ha ospitato questo ciclo di trasmissioni di Check Up Obiettivo Salute, vi lasciamo e vi auguriamo una buonissima serata e grazie per averci seguito fino a qui. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti.